ola ragazzuoli entrata fa parte della famiglia vita mozzo gruppi telegramma fissati nel primo commento ola ragazzuoli benvenuti in questo nuovo video su vita moz ragazzo oggi vi porto l'after patch dell'otr e del com to com allora ragazzuoli siamo in una sessione di inviti ma funziona in qualsiasi sessione poi dopodiché abbiamo bisogno di un amico che dovrà avere il veicolo che ci vuole passare e dovrà anche avere il centro operativo mobile noi invece abbiamo bisogno del centro operativo mobile e del veicolo che vogliamo sacrificare in questo caso io utilizzerò una moto ma funziona con qualsiasi veicolo ad esempio una lgrh8 una volta che abbiamo questi requisiti ragazzuoli altro requisito importante dobbiamo scaricare dal social club un elenco partite che ve lo lascio nei gruppi telegram con il comando slash elenco una volta scaricata anche l'elenco partite dobbiamo avere un ultimo requisito molto semplice dobbiamo avere la possibilità di accedere al the music locker è il locale che si trova proprio dietro al casino una volta che abbiamo tutti questi requisiti ovviamente andiamo allo strip dove c'è il posto di scambi e facciamo salire il nostro amico sul veicolo che vogliamo sacrificare e lui rimarrà fermo qua lo richiamiamo centro operativo mobile e lo facciamo ovviamente accomodare nel nostro veicolo questo punto o ci spostiamo con un veicolo oppure facciamo un teletrasporto e noi ce ne andiamo verso il the music locker quindi verso il casino una volta arrivati nel parcheggio del casino ci sarà questa icona blu mi raccomando attivate le icone in mappa dal touchpad a questo punto facciamo option online andiamo su elenco partite elenco partite preferite e andiamo a premere una volta x su questo messaggio e poi x e freccia destra a spammare freccia destra io in questo caso ho sbagliato sono andato molto veloce adesso ve lo faccio vedere di nuovo molto più dettagliato ok quindi se vi capite in questo modo non vi preoccupate potete riprovare assolutamente e vi uscirà ok allora ritorniamo da capo ci mettiamo nell'attività a questo punto option online elenco partite andiamo su elenco partite preferiti fate attenzione premiamo una volta x per selezionare l'attività su questo messaggio x è subito quasi subito freccia destra ok quindi uscirà questo caricamento un pochino più lungo e andremo nella lobby dell'elenco partite ok come state vedendo adesso dalla clip appena ci dà la possibilità semplicemente dobbiamo fare cerchio e x per uscire dalla lobby una volta ritornati quindi nel parcheggio del casino dobbiamo andare a fare touchpad servizi centro operativo mobile e richiedere il centro operativo mobile se come me vi capita che il centro operativo mobile è grigio non avete sbagliato nulla semplicemente fate scendere il vostro amico dal veicolo che sia una moto o una macchina richiedete il centro operativo mobile e poi lo fate semplicemente risalire è un bug che può capitare o può succedere ma non non è così grave ok quindi a questo punto una volta che abbiamo richiesto anche il centro operativo mobile saremo quasi pronti ovviamente dobbiamo soltanto assicurarci che il nostro centro operativo mobile ovviamente spawna in mappa ok quindi andiamo a verificare ovviamente che il centro operativo mobile è spawnato in mappa e come vedete io ce l'ho proprio nel parcheggio del casino a questo punto ragazzuoli andiamo verso il the music locker e al the music locker ragazzuoli fate bene attenzione c'è un percorso da fare ma ve l'ho segnato tutto quanto prima diritto poi a destra poi nuovamente diritto di nuovo a destra a questo punto una volta a sinistra e poi sempre diritto a fine di questa porta ragazzuoli fate bene attenzione qua addirittura vi ho anche rallentato la clip allora ci avviciniamo all'ascensore poi fate bene attenzione dobbiamo premere x e poi spostare in avanti l'analogico sinistro ok quindi semplicissimo x e spostiamo in avanti l'analogico sinistro a questo punto cadremo nel vuoto ovviamente saremo già buggati quello che sentite in sottofondo è la piccola mozzo ok a questo punto saremo già buggati dovremo andare soltanto verso il centro operativo mobile e dobbiamo andare a raggiungere il nostro amico che ci sta aspettando per donarci ovviamente il veicolo a questo punto ragazzuoli quindi centro operativo mobile io vi ho accelerato la clip ve l'ho lasciata tutto quanto e andiamo verso lo strip club ok perciò ragazzuoli quel trick è molto semplice x e una volta analogico quindi andare verso avanti con analogico sinistro per andare verso l'ascensore non c'è bisogno di spammare freccia destra perché in automatico vi farà entrare poi nell'attività una volta arrivati allo strip club dobbiamo posizionarci bene con ovviamente il centro operativo mobile e ci dobbiamo mettere davanti la porta dello strip club proprio in questo modo ok quindi vicino al birillo soprattutto se state facendo come me con la moto ok quindi ci mettiamo in questa posizione andiamo verso guardate bene la posizione la distanza col birillo e il pallino blu ok andiamo verso il il nostro amico saliamo sulla moto e ovviamente saremo pronti a ricevere il veicolo adesso se utilizzate come me il metodo della moto fate bene attenzione a questa parte quindi con la moto andiamo verso il birillo ci mettiamo con la ruota davanti sul birillo proprio in equilibrio in questo modo ok quindi proprio sul birillo perfetto una volta che siamo posizionati premiamo freccia destra ci sarà questa animazione appena ci dà la possibilità non è detto che ovviamente ve la da subito appena ci dà la possibilità dobbiamo semplicemente premere triangolo per uscire dal veicolo ok quindi premiamo triangolo per uscire dal veicolo poi facciamo option online attività avviattività create da rockstar missioni e andiamo in un lavoro da titano ok quindi semplicemente premiamo triangolo e andiamo in un lavoro da titano arrivati nella lobby facciamo cerchio e x per uscire e saremo ancora bagate questo punto veicoli riporta veicolo al deposito e saliamo sul veicolo che vogliamo ricevere del nostro amico il nostro amico nel frattempo sarà nel suo centro operativo mobile e ci dovrà invitare nel suo centro operativo mobile ok quindi una volta che arriverà l'invito alziamo la notifica fino al secondo x qua dobbiamo tenere premuto option rilasciare option e premere x se questo timing non vi esce non è un problema al massimo vi farà la schermata nera se invece uscirà come me verrà andate una sessione ad inviti e praticamente avete finito perché rientrando in sessione richiedendo il veicolo al centro operativo mobile ovviamente avete il veicolo del vostro amico perciò è molto semplice se seguite tutti quanti i consigli che ovviamente vi ho detto per qualsiasi cosa ci sono i gruppi telegram fissati nel primo commento come vedete il veicolo è arrivato perciò ragazzolo vi è piaciuto questo video lasciate un bel like condividete iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video bella